Giusto una seconda per salutare Gioia Maria Righi e Guido Virolani che sono giunti e che parleranno posto di stamane, piuttosto previsto, diceremo, di fare un piccolo giro, un genso, a tempo di giochi si Gioia in questo numero che all'anno e mei ho presentato e poi dopo fare un bilancio, diceremo, l'intenzione, un stato allevita e un piccolo bilancio critico, allora stamane sarebbe così, dunque la presentazione fatta dall'anno e mei, dopo la presentazione e l'intenzione e la rivista da Guido Virolani, dopo ciò che si faccia come base all'epica con Gioia Maria Righi e poi dopo ho gustato di un bilancio da Paolo De Zanti tanti anni dopo, vinti anni dopo, in maniera che il seguito della giornata possa essere consagrato alla parola dei collaboratori e dei messaggi raddando e poi dopo, forse, ciò che li risentano oggi, dibuite a ciò che li dicono tanto. Ecco, dunque, due paroli non stanno sul genso, sul corpus, partendo di questo piccolo bilancio che hai avuto in della messaggera d'abrile 98, voglio spiegare, dunque, un primo genso, di sicuro è un lavoro da completare e poi, di nuovo, guardare un po' ciò che c'è indrinto a ciò che sono presentati, perché ciò che non abbiamo da constatare è che c'è a divizia. Dunque, si trattaria qui, dunque, d'identificare un corpus, di circa i sono i tendenzi e, forza, guardare un po' come si marcano in una letteratura corza, il programma è in francese, l'ha chiamato in francese, ma se di nuovo non c'è mica problema. Dunque, l'anno 2000 e poi, guarda, più, c'è qualche elementi. Dunque, è aggiuntato qui 155 scheduli tra un numero 15 e un numero 30, sono andato appena al di là, riattualizzando qui fino al numero 32 e numero 32 e 33 e, bon, c'è una media di 15 intrati all'anno, che, quantunque, è qualcosa di significativo in quanto su corpus e su sguardo qui. Guardiamo che c'è qui, dritto, Romanzi. Allora, qui, c'è veramente il Vattuno, dopo Messaggera di Cia Radio, dopo il 98 qui, ciò che si passa in questi 20 anni, in questi 15 anni e più, è veramente un sborro, un sbocco di Romanzi a diversi titoli. Noi, di sempre, cronaghi che si impone come un genere interessante di noi, della forma curta che ci piace in le letterature più più che forza. La poesia, si mantiene, con una varietà quantunque di genere, un mantenimento di una poesia tradizionale e un rinforzo anche di un poesia tradizionale in altri formi di trasmissioni, con scuole, associ, scontri, qualcosa che si strutturizza. E poi una poesia nuova, assai contemporanea, moderna, che va a città in delle autori di un mondo, di un Mediterraneo, di modo assai abatto. Produzioni dallevi, scolari e produzione didattica. E poi di noi, un sbocco di un'altra altra, si vi darà, con collaborazioni, partenariati e tutto quello che dà un'adivizia assai importante. Allora, io ho aggiunto solo qui un genso di Romanzi che erano esciuti da poi del 2003. Nizogu qui fino a iorni d'oggi a 30 lui, ciò che è un'epica proprio proprio senza paro in de la storia della letteratura di lingua corza. All'istinati qui, vedete dopo il 2003, hanno avuto un corso di Bastia, di Tiers, di Gualenesi, di Vidal-Mattei, di Micanomi e di Moracchini, di Fortunati di Benigni, aggiustando un romanzo che veniva di Madalena, perché si può considerare anche che l'isolano di Madalena può essere integrato della lingua corza. Pedro Antoni, che ha proprio un romanzo, ma una fresca storica che si può considerare anche un romanzo 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 di Giacomuttiere in Deo Degeno, l'ultima pagina, il primo romanzo di Giorgio De Zerbi che è stato che c'è tre dopo, e il quarto è in via, il mortorio di Biancarelli, aggiustato un'avvenzione di la scuola di Santa Riparata perché mi pareva interessante, il secondo romanzo di Moracchini in 2000 e 2010, la partura che vi diceva a Sardegna con una traduzione di Giacomuttiere da Antoni Arca, il quotidiano di Giureksek, che è piuttosto un assadio che un romanzo, ma quantunque è prosa lunga, un gallerato di Santo Gasta che, disgraziosamente non va a tempo, se ne è andato, ma che ha fatto un acconcio proprio noattricio, noattore, no, no, in della letteratura corta, viene a dire che ha messo in seguita due romanzi in un uso dei lunghi seguiti che si possono trovare nella letteratura, come Zola o Balzac, a tempo qui, dunque, Maria Stella, che è scelta in 2013, che voi vedete appena più un giorno, e a seguita, ma una seguita a Ususaga, che è proprio proprio interessante, c'è già Maria Arighi che l'incalca in delle appresentazioni di Giacomutti e che ci ammenta che la letteratura corta si accontra di noi in usi che non conosceva mai prima, a meno di memoria personale, non conosco mica esempi di questo tipo. Dunque, l'orto di Emobram è Giacomoni, il romanzo d'amore, è proprio interessante di noi, a Gorsigana, il romanzo di la partura di noi si passa ai Stati Uniti, appena come l'erba crescerà in un altro genere di Pier Giuseppe Ferrali, secondo romanzo di Giorgio De Zerbi, che sorti da Bastia e che ricola un bozzo qui, La fresca di Asanta Trinità, un romanzo storico di Benigni, a rivolta di un spermatozoido, mica proprio un romanzo di Paolo De Zanti, ma quantunque un accolta di noi li filati e tematizzati non hanno un genere proprio particolare, caustico, autogritico, proprio interessante. Corsa Arcada, un pronuncievo di Corsa Arcada, che è un cognome trovato tra Thier e Antoni in Sardegna, e che viene appena in seguito di un tango tra Argentina e Sardegna, in sa collaborazione con Alguerro. L'uomo ero di Paolo Urgella, di noi, interisoli, i migi, romanzo di Giacomuttiere in 2013, Ieietto, di noi, un corto romanzo storico e assai nuatori di noi in un sguardo storico della società. Maria Stella ne ha parlato di noi. Cosa ci sarà stasera a teatro? Adio preso l'accento bastiacio, perché è scritto in bastiacio, è un nemico sbaglio, o ho, un nemico sbaglio, ma è l'accento bastiacio, un romanzo di noi, caustico che Giorgio De Zerba ha presentato qui, cent'anni, cent'anni, cent'anni mesi, John Ivio Acquaviva, di noi, che si presenta come un autore di prima trinca qui, fin tanto che l'erba crescerà, e Ostrasorma, che mi pare l'ultimo sortito, non sono mica forzacini e altri, ma tutti i casi siamo qui. Dunque, una media di tre romanzi, o pari lunghi, all'anno dopo i 2000, ciò che è proprio, 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 senza barro, indi a produzione corta, segno di vitalità. Dopo, potremmo discutere di questa vitalità qui, di petare il litorato, di petare l'uso che ne è fatto, il sguardo che ne è dato, il sfrutto, soprattutto, in didattica, e come un'ascimento con l'antologia a prodi liceani e di scolari, tirando prodi tutti questi testi, dunque, su sguardo, n'entro, 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 a si testi qui o ne è ancora fatto, ma, so che ci sono, c'è cosa in via di questa vata. Dunque, il paragone che vi dice tra Emanuele in 71, che dice, a chi incalca, che quando si tratta di letteratura di vincione, ciò che si vede, ciò che survide di un offragio perisci chacchi giorni, le giorni hebdomadaire, se denomano, sulle doi di noi, ma bella letteratura, ma poi dice che un c'è nonda, che si vado e che solo dal sedo riesce a rigarci tra l'anno 80 e l'anno 60, l'usopeci anguilla e anche il filo dado e il filo mondo. In una messaggera, dunque, ha detto io, che abbiamo contato tra 88 e 98, 8 romanzi, e già in una messaggera, mi nirà l'egraio, faccio un piccolo genso qui, Vidal Mattei, Fontana Altea, Barcaia Madonna, Cipresidente, eccetera, eccetera, la gelo di Usariseu, che è già proprio interessante dal punto di vista dell'immaginario collettivo che arrega cast attraverso un romanzo epico, storico, e molte, dell'impiegato perso, passato troppo di notte, dice la radio, ma è interessante di noi. Ecco, mi sono appoggiato di noi nel transcripto un punto che faccia Paolo Dezanti e che ci vuolta. Dopo ripeto di noi ciò che dice o mi pare Dio Maria, in idea messaggera, se non mi sbaglio mica, ciò che stupisce l'assenza di certi temi che sono presenti, d'altronde, nello stesso periodo, si trova poco rivarente a vittà sentimentale, a vittà sessuale, poco affari, durante l'esistenza di gruppi sociali distinti, la storia in via, una comunità appena così data in delle sue tradizioni, senza troppo conflitto, e poco indetti, e niente, e ha preso giusto appunto per contrapunto qui il romanzo di Morachini che arriva finalmente a proa qui sa critica giusta, il suo sguardo giusto di Dio Maria Righi all'epica, beh, finalmente, con l'anno 90, fino al 2000, tutto quello che era imparato per andare verso i generi che si potrebbero giustificare una certa salute della letteratura di lingua corza. Faccio un esempio, i romanzi storici, Benigni, Antoni, Tucci, Ricasta, Sugiali, con l'Assadio, con Giurexec, ma anche Diwintu, Diwintu, Morachini, Thier, Biancarilli, Desanti, e poi roba più di vincioni con i vicendi, Gussi, Aiwintu, con Benigni, Scola di Santa Riparati, il poliziero, il romanzo giallo, con Comiti e Morachini, ci sono stati altri in un frattempo in francese di noi, pubblicati, un genere romanzo giallo corzo, tra il francese e il corzo, finalmente ha conosciuto un vero sbocco. e poi l'amore, che era un sintomo finalmente assai poco trattato, sempre troppo poco trattato, di modo pieno in tematica, ma quantunque che apparisce a sessualità di noi, possiamo dire, per rapportare questa critica qui, che attraverso Biancarelli, attraverso Comiti, che va anche assai lontano, in dei a provocazioni, quando in certi novelli penso a critica che era stata fatta a Comiti quando c'era Gesù Cristo in un'arena, un insistimo mica. Ecco, dunque, a sessualità, attraverso i romanzi, e a prosa in generale, è giunta. Ecco, dunque, i vatti appena da rimarcare, un immaginario che s'acconcia a poco a poco. allora, io ho messo, stavato qui, ho avuto di una conoscenza di a Corsica che si rivenia di più in più, ve la dì, la storia conosciamo di mezzo in mezzo, l'economia, eccetera, eccetera, tutto ciò che esce, sia un francese, sia un corso, sia un italiano, non c'è a Corsica, arrega di noi possibilità noi all'immaginario collettivo. E qui, ne risentimo di noi il vato di la letteratura di lingua corsa, di uso sviluppo, ma di noi di la letteratura corsa in generale. Intendo letteratura corsa plurilingua. I guerri, sono assai importanti, per chi cent'anni dopo ci potremo un po' una questione, abbiamo qualche risposta di noi, ma forse sboccarende la giornata, opere di vincioni, legate a una conoscenza più buona, rapporto a Corsica, sempre, sempre prapotente un rapporto a Corsica, ma mica sempre, visto che il romanzo di Ferali ultimamente è un nemico consacrato a Corsica, è proprio interessante di vedere che si può scrivere in lingua corsa un romanzo che non tratta mica di a Corsica. e il realismo che metto in leia di nuovo un certo disincanto, un disincanto posto che faccio io in dei corsi nella letteratura qui un'articolazione con l'anni 93-94 quando i nazionalisti si sono stirpati c'è una diluzione che ha fatto qui a Manto Dato questa diluzione a conto mio rompe quantunque l'indiatura appena mica entusiasta ma un'indiatura che mette una vena più bella più corso eccetera eccetera c'è una certa diluzione che faccia affaccare dunque una realità dunque saremmo un trutto quindi un certo naturalismo a uso francese nell'anni del XIX secolo un certo realismo si può dire di sì ma non è mica da generalizzare c'è altro a fare di noi ho appoggiato tre testi qui Pasquale Ottavi una nuova Marco Biancarelli una passata di suo pastore qui è stirpato da una violenza che è qui in Corsica che è un po' che si mantiene con i suoi ultimi libri e poi mi ha appoggiato di noi questa valata qui di Loulou e che faccia riferenza qui a un'hypocrisia sociale e che un tema non si può dire mica che è proprio settantesco che tratta di un certo disincanto che si può ritroire ben un altro ecco giurexec di noi quando ci descrive una Corsica e che sviluppa quantunque un filo ideologico di una Corsica nuova e di una visione ecologista che faccia finalmente un'anto di una povertà e che si scrive in una tradizione cudesca di cerradio di l'assaggio e di la rivoluzione non ciò che può essere un popolo e che è proprio salutivo oggi quindi se riflessioni ecco due parole secondo un furia perché non si tratta mica da mattinata non è subriposito ho già fatto abbastanza quantunque i occhi di una poesia sempre più numerosi e gente che continuano a scrivere dopo anni e anni santo gasca disgraziosamente mica ma Paolo Vilippi Fusila Muzzi Terrazzoni noi Olivier Ansea di un misto di noi di noi che continuano a scrivere eccetera 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 moderna interessante ciò che è ciò che è ci compro e ci vediamo qualcosa da sfruttare qui in quanto la letteratura a corza dunque a lingua che può andare al di là se poter continuare i ponti ultimamente è appunto da Emilio Koch con un almanacco che è su Tawawa che noi presenteremo sicuramente nelle prossime settimane casi di Dricci come è a Lucemburgo o a rivista Zurgai o Paese Basco per darvi alcuni esempi e poi altri rivisti che sono interessati alla letteratura a corza come la rivista di Nizza fra altri ci sono assai altri la prosa curta continui a usare il cammino dopo i concorsi che si sono sviluppati e poi l'abrivo che aveva dato così tanto a corrigire la prosa nuelistica la cronaca interessante di nuovo ha un integrato mariferante che dà un aspetto proprio barocco al genere che scrive in corso francese interessante di vedere come la letteratura si può consegnare in un primo tempo con chiamare i comandi della blogosfera e poi dopo pubblicare l'esempio di terror e fantasia che ha coordonato da Marco Biancheri che è operi in elaborazione di sicuro un digegno un digegno due digegni che affirmano un insieme d'opera in via sento che opera qualcosa di quantitativo e qualitativo ho messo qualche nome qui ma è proprio subiettivo autori più tardi ma che portano un'opera come Benigni o dei Zerbi una generazione di noi che nasce dall'università di studi come Comiti Moracchini Ottavi appena meno un giovane di rigiro come Katagieca un cacemoli che ha rigiro il ruolo di abbri di giovani autori e poi una certa che coda di Mitsuki De Santi e Biancarelli ma cominciano a tempo anche chiedi ecco dunque un'opera in elaborazione un'operata una letteratura di lingua corte che si face in seno a una letteratura più larga che si face di noi disincanto fini dell'esaltazione critiche cruciate diversità assai apertura realismo a conto me un viasco rallegante positivo di un standard e poi una letteratura che può essere più più spudica in idea asolingua ma di nuovo più più larga in idea considerazione che può avere di ciò che è a lingua corte dunque una polinomia larga qui che può andare a diversi lati il punto più positivo è la costruzione di un'immaginario collettivo attraverso la poesia che circa sempre come partendo da regio i formi noi i formi e primuri di Geriè Francki ecco 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 un'evidenza quantitativa un'evidenza quantitativa che ha incalcato durante questo piccolo proposito ecco dunque per fare un piccolo bilancio che hai avuto ultimamente grazie allora penso che nemmo da da far fila e comunicazione assin all'ultimo prima d'entrare nella discussione dunque se Guido Viroloni vuole bene a presentarci ciò che lui era o progetto ciò che lui era il progetto di A Messaggera di Soltimo Luma come mi parla di A Messaggera sarà un benvenuto qui e poi dopo Gian Maria Arighi se lui vuole venne anchello così faremo faremo la presentazione generale di A Messaggera di A Messaggera e che cominciò nell'anno del 91 93 a Probone a ai corsi di A Diaspora una una serie di di produzione culturale in particolare di del settore di Ulisco e ben inteso di un libro a in particolare di Aspora l'ambizione era quella di un catalogo di vendita di libri e di rischi per corrispondenza e poi poco a poco c'è stata l'introduzione di elementi di di riflessione in particolare analisi di certi libri issudi o certe musiche robuste dunque Gian Viveri e gli amici hanno avuto questo progetto cercando più o meno allargarsi ma una cosa è una rivista di intorno a Diaspora un discorso pieno di ambizione ma con i risultati che non sono mica stati all'altezza che li vogliono. Un giorno Gian Viveri mi ha detto che avevamo parlato di questa rivista tale quale perché una struttura che ci permette di accompagnare di maniera veramente operazionale sarebbe interessante se noi esibuiamo a punti là una gas di dire perché c'era tanto da nostra parte una rivista dopo la morte di rigiro che era qualcosa di importantissimo a corsica una rivista culturale di un bisogno tutti i casi noi risentiamo la necessità di pubblicare in lingua corsica di pubblicare niente a corsica per noi una rivista di che permette un certo dibattito che permette la riflessione comunale di essere delle mani di tutto ognuno si è ben inteso tutto ognuno era interessato per consumare questa rivista dunque la nostra la nostra strategia era piuttosto questa di andare a fare qualcosa della continuità del spirito della continuità di una rivista come rigiro che è stato un momento importante per la cultura di questo paese per la popolazione è stato un momento importantissimo secondo me dunque ci siamo messi appena in questa strada e poi dopo messaggera c'è stato per noi una rivista come come buona noa che è stata una partecipazione anche l'associo di sostegno del centro culturale universitario l'idea cosa era era di un po' mica esiste un'attività intellettuale necessaria per questo paese se non c'è mica un documento che permette più o meno a ognuno di provare la sua riflessione e di provare un ribadito bene ciò ha detto che i primi tempi di questa rivista che abbiamo avuto era di continuare questo rapporto con i corsi dell'altro dicendo dicendo che avevamo con i corsi attraverso questa offerta sempre sul catalogo della produzione di corsi i risultati sono stati sono stati risultati di buca qualità ciò che mi ha fatto mi sa subito che infatti la cosa era completamente sbagliata perché non era mica un livello di interesse portato da quelli altrò per un sforzo culturale che rappresentava una rivista come questa da un livello di interesse era bassissimo questo è un altro discorso che ciò avrei a fare ma l'idea prima non è uguale si era fondata l'esistenza era quella di lì c'è una potenzialità andiamo a fare questa potenzialità e ci rinforzaremo qui passando per l'altro ci rinforziamo qui per poter sviluppare un suo spazio di libertà e un suo spazio di ragionamento e di riflessione siamo stati assai delusi dei risultati a suo livello così perché francamente questa corsa della diaspora è tanta male tante volte ci dà secondo me è allontanata cacciato giù un figatello di di buca qualità cacciato giù questo si è allontanata di poi tempi e tempi di realità corsa dunque ci so che ci sogna ci so che ci so che ci sogna sempre ma penso che per me è un sbaglio l'esperienza di messageria ha già dato questa di noi ma abbiamo continuato l'emulsù da dando prima di trasformare veramente una rivista culturale di tutti i settori che sia diciamo antropologico in una maniera generale e era un'unità di mettere a disposizione su spazio di libertà e di continuare ciò che non vorremmo fare nel piano di buio principio di mettere la penuccia di spessore di mettere il più documento possibile entrare in mano della nostra popolazione perché se non vogliamo essere beh ciò che fanno se non si facciamo non saremo mai dunque l'unità di essere c'è l'azione secondo me dunque ecco il senso della messaggiera tale quale abbiamo continuato in questo numero che è stato non so più se è l'ultimo o ben ultimo non mi ricordo più ma infatti mi hanno fatto semplicemente di noi a Dilla a una rivista come questa che non era aiutata da nessuno che era fatta solamente anche i mondi d'Albiana beh a spartire questa rivista era dare che ha aumentato il suo gusto era troppo importante per poter continuare a farla e per me quando abbiamo arrestato questo lavoro qui è stato un brutto momento perché secondo me tutto è oltre che un spazio di discursione o di libertà si ne more è meglio una catastrofa e penso che sarà diventata qualcosa con una spessore abbastanza come lui costituire di un leone mesogiale importante ecco passo la parola a Gioann Maria a Righi che aveva organizzato il suo numero una specie di bilancio diceremo dell'antenna di scrittura corsa grazie grazie devo dire che infatti mi ero quasi scordato di ciò che avevo scritto un drento bene a dire che nel frattempo una volta qualche sia mi ha detto che non c'era mica sentimenti sessualità nella letteratura gorsi in due scritta sì ma qui sono stato contento di ritrovare su un uomo rosano mica tanto ciò che ho detto io che era di più storico ma si presentava sotto la forna durante l'intervista appena di chi non era mica strutturato veramente non gli ha ripigliato qualche punto si tratta di una letteratura corsa più antica dunque ci sono mica stati inuitabili veramente da tanto ciò che c'è di nuovo ci sono stati travagli universitari e di fondo e che ha spesso ciò che diceva di modo così risentendola si pura riapudiava non ci si travagli di ricerca penso per un dito quello di Genio Gerardi e di Paolo Desanti che qui non ci ha i poeti redentisti ma non ci ha un signor di Marco Cini poi lei con l'Italia eccetera allora prima ripigliare un po' ciò che diceva all'epica a Spicera dopo non ci ha i cambiamenti da tanto allora qui mi scusare di ripigliare forza certi affari che la dita l'hanno di meglio sotto un'altra forma meno completa allora il primo romano era l'aspetto dominante di questa letteratura una era una letteratura in costruzione ben sicuro a tempo a una lingua in traccia di costruirsi di noi in modo cosciente benedì cominciava a avere l'arnese linguistica necessaria penso parodita un dizionario di Valcucci eccetera i due movimenti andavano insieme dopo era una letteratura plurilingua qui si trattava di una letteratura in lingua gorsa ma c'era di noi la tradizione italiana che non era ancora piantata la francese che gli unì a pascola e parecchi scrittori di tanto si sa che li scriviano in parecchi lingue a spesso lui certe volte tre certe volte anche quattro per Monsignor della Vata che c'era anche un latino ben sicuro per un pesco e l'impiego di un corso combinava per i temi rurali tradizionali se mentoava a battere la pesca che diceva che ci voleva cacciare per passare da l'italiano a un corso cacciare con i guanti e la stagione e passare a una retta miga e un buon pilone dunque c'era una tagliatura d'ordini sociali tra i guanti italiani e i francesi che concernava di noi il tema e i generi si sa che l'ultima paruzione in italiano so all'igosto di 1900 e dopo ha scelto tra corse francesi dopo di noi una letteratura scritta legata con una tradizione orale ricchissima e con un rapporto europeo con ella perché a tempo di sicuro l'oralità ha un peso non ho scritto però ho detto a quantità ho scritto di sistine che sono della tradizione si vede a tempo c'è una volontà di staccassene per dire attenti passiamo passiamo a letteratura alta come in francese come in italiano e qui si passa di noi ai versi di dodici pedi alexandrin come le hanno chiamato l'isandrin e anche in questo momento sono conquistati a poco a poco altri spazi di aprosa e di giornalismo dopo si trattava di tematiche dell'originalità allora una dominazione della poesia a principio come in tutte le letterature che si vaccino e una ricerca un poco da certi autori di formi vissi su netto eccetera e il tema si può dire che erano etnografiche o più le tradizioni o modo di campagnolo e un certo conservatismo ideologico a religione è un'evidenza in tutti i testi non si discute ma ancora la famiglia l'onore l'amore di un paese di un paese di due esenze paese e villaggio di una natura e di noi una letteratura andiata abbastanza presto che Santo Casanova dopo una letteratura di rivendicazioni allora non si tratta mica di di grittare non si teme è un caccia nulla o valore letterario ciò che si può irritare in ciò che lo mentoava all'anno prima è che parecchia altri temi che erano di primura assai in altre letterature all'epica non ci siano mica non pensiamo in francese a Baudelaire a Balzac a Flaubert non c'è nulla nella letteratura di tanto che ci corrisponde parondito ripillo ciò che lui diceva l'anno prima amore e sessualità soldi conquista di soldi ambizioni tutto tutto i differenzi sociali l'immigrazione parondito aveva libri che parla libri o poema o altro dell'immigrazione magribina recente a Sepiga qui c'è stata l'immigrazione italiana 30.000 persone in 20 anni o 30 anni non si vede mica le cose certe volte si può parlare d'un italiano ma infine senza analisi mica a storia a due livelli una storia più antica come suddietto di romanzo storico infatti un libro storico un romanzo storico dell'epica non c'è Paolo l'ha scritto Guerazzi in italiano non c'è un corso in corso allora si possono trovare poesie non c'è Napoleone non c'è Paolo e dopo di nuovo la storia come ha campato se stesso e per un dito l'autore di Gorsi non ha mica pigliato come suddietti conquisti coloniali ha lotto per l'unità italiana che pareti i Gorsi ci hanno partecipato e manco la prima guerra mondiale si sono pigli un autore come Petro Roca Petro Roca ha scritto un politico ma è di nuovo un scrittore ha scritto un corso ha scritto ha scritto pareti poesie più indiate ma ha fatto la guerra del 2014 è stato digorato il nazionalismo è nato un parte da la guerra del 2014 ma non ha scritto non tra la guerra del 2014 ben a dire che in corso non c'è mica stato un libro come il Feu di Barbus come le Croix de Bois come Orage d'Assier o dico un francese di Unger pariente che ha spesso scriviano e avevano fatto questa guerra dunque c'è Dantaro Gassi a violenza avendo detto il banditismo si ne parla qualche volta però ci sono i poeti che hanno fatto bocci e riollamenti letterari scritti da elli ma il banditismo certi volte si può scontrare un bandito in campagna ha un aspetto rimo pittoresco ma avendo detto il banditismo come suddietti di vando del libro non ci ne è mica in corso e accanto a questo si vede che li sono stati suddietti non autori francesi importanti come Merimè Bensiguro Balzac Maupassant e di noi parcorsi ma in francese sono poi il fleuve de sang di Marcaggio che è un libro interessante e italiano si può trovare un poema di multedo non criticare la vendetta ma è un poema italiano dunque la spiegazione incosciente sarà da parte da tradizionali che noi diciamo tra i suddietti di vita tradizionali i suddietti un po' gommiche da trattare in corso e le altre più divondo più serie più difficili da trattare forse in francese dopo la modernità di forme e di tematiche è una letteratura che mi pare che sia stata più tagliata dai grandi correnti internazionali dell'epica prima c'era la letteratura italiana dopo c'è la letteratura francese ma si può dire classica non è un senso letteratura riconosciuta eccetera ma è un senso letteratura imparata nella scuola benedì che parecchi in poema non c'è mica il tempo di studiare c'è un'esomiglianza un'influenza forza di Lamartino Hugo ma forza mica in ciò che è l'anno di più interessante benedì che è di più Hugo non so mica quando lo scrive non sta a morte di Avigliolo non sta a fare così che ha Hugo in poema cosmico di un'altra ambizione e di noi in poesia poche immagini forti e che marcano come si possono trovare infatti in la poesia orale anche non è difficile abituare pezzi di poesia orale ma infine qui c'è una potenza che spesso non si ritrova mica nella poesia scritta dell'epica e in poesia di noi c'è mica veramente aspitera di chissà da passare non si passa ciò che è normale e previsto in dei comportamenti di tanto allora c'è un rinnovo dopo la prima guerra mondiale mica in tutta la letteratura ma in dei poeti particolari per un dito l'amore c'è in degli agomosanti versini o in dei petrosanti lega si vede i nomi tipo di Saverio Paoli il tema dell'elemente di asoputenza e un vogo eccetera allora i poeti redentisti che sono stati studiati da Paolo De Santighe qui Filippino Angeli hanno un contatto nuovo con i correnti mondiali passando per l'Italia io forse una regia all'ingosso sarebbe troppo semplificatore il termine ma con un certo simbolismo non sia mica solo pensamento messo in berze allora dopo c'era una domanda interessante a sapere se l'era una letteratura provincialista allora su concetto di provincialista l'aveva proposto José Gilles parlando della letteratura portuguesa fino a dico penso a in portoghese si deve dire qualcosa come e c'è ma così una letteratura radicata integrata su città in due le prodotte a tal punto che non può più avere che non si può più staccare né avere un sguardo critico né avere un sguardo veramente individuale allora è una letteratura che costa teglia ciò che c'è o ciò che c'è stato e che sparisce o che è sparito e c'è un certo piacere a guardarsi a guardarsi da per sé e forse con poco contarezzo per quelli che sarebbero infatti ciò che la riccia è siamo così noi siamo così la sappiamo ci piace ci piace l'ingosso e ciò che l'aspetto di noi l'affare viene da un scrittore ben a dire voglio ritrovare piuttosto ricordi di Zitillina che siano mica quelli personari di un autore che siano comuni ben a dire non sono mica di all'idea Bonavita a mamma di Bonavita faccia il pane così a minnana di noi che al cattolio è bellissima fa ci piace non voglio mica di chi l'ho perché non siano mica belli a livello di scrittura un'altra affare e n'esce di noi i libri così che poi non sono belli tutti gli anni non c'è nulla da rimproverare né all'autore né al pubblico c'è un pubblico per l'idea penso e c'è ci sono gli autori per scrivere l'affare per avere una letteratura non ciò nemmeno limitasse a sospetti e dopo c'è stata una maturazione dunque dall'anni 30 che giugno dopo così tante la situazione che non aveva dopo mi domandavano i scrittori che veramente risortano non si tratta non si tratta che arrivavano una distribuzione di premi mentavano a Berzini a Angeli a Filippini a Bartina Pizzaparo a D'Alzetto ma forse se ne può trovare altri motivi e dopo un momento se un passaggio da italiano a francese aveva avuto i danni nella letteratura sicuramente è stato un colpo non solo nella letteratura di perda la lingua d'alta cultura che c'era prima almeno per due elevi si può dire che è stata una disgrazia perché si può dire che la letteratura francese sono studiata un'emica aiuta entra in la cultura popolare a Gorsa come lì c'erano prima Dante o Lariosto o Tasso in 70 cominciano a giugna i enti che hanno avuto un contatto con i correnti letterari mondiali passendo per la letteratura francese o più d'altronde non voglio mica avere un censo ma un numero di provvissori francesi dei scrittori di 80 e quantunque ma io è un nemico un azzardo penso allora dopo per la radio voglio andare un po' caspicero perché parecchi cose sono state rite da l'anno infatti parla ragione sempre di Aleva di 80 e di quella che è venuta a Ruppo anche che certi di Sareva abbiano criticato assai 80 eccetera mi pare quantunque all'istesso movimento ma penso mica difondo veramente piuttosto di modo di esprimazione e d'altrondi critiche di riacquisto di certi autori più giovani erano piuttosto una volontà di andare più lontano che un rigoso marco quantunque si può dire con l'attività di un autore di 80 e ciò che c'è che 80 è una rottura con questa tradizione provincialista che noi diciamo ma una rottura poco a poco ma con dito non c'è mica stata polemica manca pena tra l'autore di Rigiro e quello di Montese che Montese è piantato Rigiro è asciuto ma non c'è mica stata un aspetto polemico e dunque per fare un paragone in forza politico si può dire che ciò che è cominciato in 80 di modo rivolmisto di poco a poco si è continuato di modo più rivoluzionario con una rivolta che si esprimì a forza di più ma non c'è una differenza allora inuità nel caso di vorma in poesia accanto a versificazioni tradizionali si vede che il verso sciolto è diventato dominante subito dal primo numero di Rigiro e i vormi vissi stessi sono ripigliati con un altro senso e di noi penso parondite alla IQ da Patrizia Gattacica forme come la rivolta tradizionale in Europa e dunque è una poesia moderna che è giunta di colpo a un livello altissimo e qui una piazza maio di amagina perché la poesia moderna da Baudelaire si può dire che ciò che apporta è amagina e piuttosto amagina che stona che amagina aspettata è un gioco non ha parole e silenzio come in un ritratto della poesia a prosa prima che è cresciuta assai di modo quantitativo prima Anuela che aveva la vantaggio forse di ripigliare forme di di narrazione tradizionale e poi il peso di un romanzo prima quelli di D'Alzetto che avevano già certi temi abituali in un romanzo la differenza sociale eccetera prima erano isolate un autore solo non faccio mica un romanzo un gruppo e poi i vormi gorti di prosa si può rimarcare di noi che il spazio dato dai media ha spesso è stata condizione di creazione di vormi nuove insomma di D.A. Inuele ha spesso corrispondito a una pagina di Ghirna i proselzeviri di Fusina avevano una lunghezza che li ridavano in giornale in due quotidiano i masai di Petro Magri corrispondono a tre minuti di parola radiovonica con certi obblighi di noi una certa maniera di di pigliare un taggresso di un litorio una certa maniera di concludere dunque diventano forme spiccate in forza generi literari con le regole proprie allora i temi in poesia si trovano i sentimenti penso a Fusina a Franchi si trova una visione cosmica spesso di Geronimo della Franchi eccetera a storia antica o prestosa sempre della Franchi un gadiamento politico ben sicuro penso per un dito un'autore che ha prodotto poco soldato di un popolo di Saverio Valentini che era una potenza epica che ho la tena alla mente e in prosa c'è una letteratura che cerca a tempo la qualità di la lingua e a presentare la vita tradizionale i continui per un dito a ciò che lo scrivì Antone Troiani pecegrura questo libro ne esce sempre avanti un nemico che a struttura di un romanzo serve o più a ligare insieme momenti di descrizione di vita tradizionale di produzione all'antica di momenti forti di vita di una società tradizionale ma si può dire anche l'Eglia spicchendoli non so veramente i romanzi che noi dicevamo prima ad aspettare ciò che sta da passare e dopo che si passa e dopo no allora Rocchi Ciolli di Dian marcava un'evoluzione perché Dian ha la società di la sua epica e più quella del diciannoesimo come in dei pareti altri e ciò che si può rimarcare è che da così tanto anche i temi che parli tradizionali sono ripigliati in un altro modo piglio parondito due novelli di Franche c'è un testo che si chiama ritorno ritorno l'esiliato passa cercando un testimone eccetera si aspettaria qualcosa così infatti un personaggio volta ma si piatta finalmente il Deo che è una costruzione antica che lo conosceva da Zitelo rimbecco è a vendetta ma si vede come un personaggio che infatti è seminarista e pretino è costretto a vendetta da pressione sociale dunque non è più a vista della società come qualcosa di donito di pulito di vello la serba di Pasquale Ottavi la tagliatura tra gioie serbe eccetera si vede a quel livello che la pulita di un'unica penso di no parondito a una spasimata di gote il personaggio di un Zitelo un Zitelo Andrea è un Zitelo che pare risciuto da letteratura provincialista che noi dicevamo è un Zitelo che porta i valori corse imparati in paese poi un Zitelo di un XIX secolo con diarato tanto e cacciata va ma infatti un romanzo ha un altro senso perché dopo sul Zitelo è una vita vera in città e ci trova a Ucia ci vede l'arabi che aspettano a mano in un muro in piazza Batucci per bere a farli lavorare ciò che pare tradizionali non è più manca pena spesso mi pare dell'epica ricente che il scrittore si vede come un creatore libero e più ciò che riserva l'Ugaz in 2080 come aspressione di una comunità mi intuè di a qui mi pare il biancarillo e di no le creatore non hanno alcune mission pré-etablie né vis-à-vis di loro quando ho scritto un'oeuvre è personale e Paolo Dessanti che è qui parlando di arrivi stavali è scritto rivendicare una relativa modernità dunque sono libri che presentano la società come la è ben a dire più cittadina e mica paesana divisa assai e anche mondializzata se non siamo pronti a scrivere una società moderna con tutti i suoi traversi e i suoi divianze siamo condannati a essere prigionieri della mente della nostalgia allora parondito tema che c'erano mica dicevo prima il razzismo la situazione degli immigrati si può mentare o Domeo Muhammad un pezzo di una spasimata che menta o l'arabo di Pidiolo di Franco e di no certi autori descrivono una società moderna contemporanea ma con un amico particolarmente i gorsi parlavamo prima dei micanomi e dei moracini sono personaggi che facendo un amico a travaglio tradizionale sono piuttosto organizzatori di evenimenti culturali a fare così hanno una vita urbana completamente e l'autore diceva che lo esituava dans notre epoca dans notre cadre di vita che è globalmente la ville e con delle preoccupazioni molto prosaiche ce che crée un certo decalaggio con un recit pathetico di una vita in una vita che potrebbe essere il XIX secolo potrebbe essere e quindi anche un choc che paria più tradizionale il tema di Mazzero siamo guardi doveva o si può trovare una vita urbana o è presentato sotto la forma di internet www.mazzero.com www.mazzero.com e di noi allora parlavamo prima di Giurexecca i vormi nuovi di occupazione di un spazio in Corsica che spesso non sono mica mentuati in studi sociologici o altri ma sono mentuati in la letteratura bene che il Giurexecca è un tema maio nel quotidiano per un dito con persone anziane che si sono mica sbrugliate a gascia in un magazzino in due lucivoli a far passare i prodotti da per sé o come si dice i lotticiamenti perché è bene che di noi ho fatto noi chi dice di costruire un paese ci costruisce i gasi serrati per pure dire in biture eccetera che sono casi di lotticiamenti trasportati in paese dunque questa è una rimarcha importante la storia allora è un romanzo storico Amadeu il turco l'accelo di Usarisei in De Casta la storia vissuta U14 l'Algeria in ombre di guerra Cayenna in dei disgraziati dei marcellesi aiuta di pedineri in da piaglia d'Aleria in del cimiterio delle Levanti ben sicuro e spesso si può trovare di noi si parlava prima dei due romanzi di Gasta un ritratto di Agurzica e anche di Uvora 90 decine dannati perché si parte dal 39 e si unia a Leria quasi 40 anni se non mi sbaglio mica e e di nuovo militantismo e la clandestinità si vede come teme in De De Zerbi in De Biancarelli dell'altro autore e allora i temi che erano proibiti infatti prima si imponono con una certa forza e ha spesso ciò che è da rimarcare che ha niente che li trova normali in francese non li trova più normali in corso ma ricordo i dibattiti in De Biancarelli del premio del libro corso c'era niente che ho trovato mica normale che li scrivesse a fare così ma che li scrivesse in un corso e questi temi sono allestinati da Paolo De Zante era parlando di questo teatro con Guerini ma parla tutta la letteratura dei temi che non erano non erano che erano che erano che erano in corso eccetera c'era ropa da metà eccetera ben sicuro e Biancarelli dice che l'aspita aveva le reazioni critiche dice che erano che erano più di hostilità si poteva pensare e un tema allora interessante è che la scrittura stessa diventa un tema o a scrittura o a verità perché prima si partiva da una letteratura che ciò che era ciò che era contato era così era verità penso parondita ai romanzi di Agomo a spesso non si sa mica ciò che è la verità c'è una memoria c'è una memoria un po' confusa c'è una presentazione da pareti personaggi degli stessi fatti o c'è anche un travaglio non ha un linguaggio stesso i lingue un livello di lingue del settembre c'è un po' un po' il tema che è sotto tutto tutte le letterature anche la letteratura stessa sia un tema letterario e l'espressione come lo dice Paolo Desante di noi non sapevo mai che lo sarei a dire se non l'avrei aumentato di meno ma se la lingua non parla tutti i giorni l'obbligo è la guetta è un tema sono rari i libri che ne parlano direttamente ma è di noi un tema e dopo nascono i generi che non c'erano mica l'anno la dieta prima un romanzo puliziero giallo fantastico l'assaggio filosofico troppo ma infine c'è stato intorno all'estezza di Gotte e poi ci sono i poemi che hanno un senso più filosofico che altro affare allora che diciamo io che da un corpus limitato in quantità e anche in qualità quantunque siamo passati a opere numerose e all'occupazione di tutto il campo literario che c'è nell'altra letteratura allora tutti i generi ci sono e tutti i formi di scrittura mi pare allora questiona poi piuttosto quella di un litorato e di Asparghiera che quella dell'autore ecco torna a Paolo De Santi per come è difficile ripetere la parola dopo perché ma ti ripeto no infine io ho pensato soprattutto pensando giustamente a letteratura in generale mi sono detto finalmente se non abbiamo un po' un po' un listino di vormi noi che poi non esiste che sarebbe la situazione dove vedo la letteratura a corso allora ho fatto qualcosa che è un po' più di statistiche che altro affare ma mi sono detto finalmente c'è una certa modernità perché la parola ci vorrei discorre un altro e c'è ciò che li chiamano la postmodernità in cui parecchi tratti comuni parecchi forme che esiste allora esiste i anni di dia ma infine ho fatto di mischiale per esempio la sovriguenza porta una certa letteratura nuova parlo qui da un punto di vista un po' mondiale da un punto di vista il corso che finalmente studia non sta a fare non posso sbagliare ma poco quindi ho fatto un po' un listino di questi tratti comuni o di queste mani rilevanti postmoderni allora un po' come una parola preziosa ma tanto bene allora c'era anche un listino allora la preziosità ce ne sarebbe all'ingrosso ma infine poi definisco un po' quello che fare a dire in francese perché non so che parole ma ce ne sarebbe a defini questa letteratura postmoderni auto-reflexività intertextualità mélange des genres carnavalisation polyphonie présence de l'hétérogene impureté des codes d'ironie métaphysique des réalisations destruction de l'illusion mimetiche indétermination déconstruction remise en question de l'histoire et des grandes utopies émancipatrice retour de la référentialité et du sujet de l'énonciation refus de la scission entre le sujet l'objet participation du lecteur au sens de l'oeuvre retour de l'éthique discours narratif plus lisible réactualisation des genres anciens et des contenus du passé e ibridation della culture savante e della culture de masse l'éthique de l'éthique l'éthique e dunque io ne ho preso cinque punti che mi pare che affaccano in certe opere che dimmo sono state stampate durante questi trent'anni la prima e più facile che tutte queste parole sarebbe un po' di vedere quanto mai l'ironia e l'humour noir mi pare abbastanza rappresentativo ci sono le altre e qui dove Biancarelli con peregrinazione in Roccapattima forse sapete di chi si tratta si tratta di un copio più o meno a Lagunia che si ne va a fare una surtita una promenata dice Marco Biancarelli in un paese a Roccapattima dunque e sono accolti da paesani più mattarati uno che l'altro cioè delle cose come dicevo passate che si compie in quella forzatura dell'amica del narratore e se volete dita così pare piuttosto nero che umoristico ma infatti c'è un discorso all'intorno penso per esempio uno che dice all'altro oba contattere quando voi avete polso boscio a Marna vedete un discorso dunque che faccia rire un po' è interessante perché l'ironia a suo punto qui dunque finalmente un po' un contraddiscorso par rapporto a ciò che si diceva a Corsica i paesi di regola c'è la convivialità siamo accolti bene ci sono studenti bravi qui è esattamente il contrario dunque un po' un'ironia che rimette in causa certe ideologie finalmente che pure non esiste sempre nel stesso testo peregrinazione c'è un po' d'esempio di ciò che diciamo qui di nuovo scusate mi parla ma in fine una metà visione una scrittura un'altra scrittura mi sono visto un meccanismo della scrittura e Biancarelli scrive cominciare così era un paese scantato vedi un po' come un paese che si sarebbe potuto chiamare Roccapattima e d'altronde si doveva chiamare così e portava aveva un nuovo si sarebbe potuto chiamare Roccapattima venerdì che normalmente di regola in romanzi si deve creare un lettore ciò che siamo in traccia di trattare e qui giustamente lo contrario c'è la sospensione un po' da credulità mi pare che qui di nuovo un trattore ma si vederà inteso in parecchi altri c'è un altro piccolo punto ci penso così è l'infrasat sempre in la peregrinazione dice la nostra aiunta c'era in un paesone come una specie d'ambiente a Stephen King e dunque qui di nuovo è una specie di stridenta d'occhi intertestuali si parla di un altro testo e in più un po' di mischia parecchi generi Stephen King è piuttosto una cultura più sparta e mica tanto elitista e si mischia tutto così forza di nuovo un tratto così una tendenza della letteratura perché poi c'è Bianca Riele che ho preso per esempio c'era Petro Mare di Ororo di Sicilia un po' con gli stessi c'è Giammaria come te c'è Ada accanto che faccia gli stessi pensa a U Ton Wille e c'è anche Giuracec in cui Gioentù Gioentù quando cominciano così mettiamo Gavino sui bicchi morti non hanno detto a credere che fessi per l'amore c'è conto con ironia da retto mi pare allora questo è un primo punto di ironia ce n'era un altro forza a far spicciare è ciò che ho chiamato l'incudera una maniera di traduzione un poco collage in francese e la bifera che sarebbe una maniera di traduzione un poco pastiscia e allora ho fatto dunque giustamente di dimittà eh di d'incudà nel senso francese di collage ripeto è una parodia un'immagine allora io trovo qui di noi pareti esempio c'è Diago Montierre nella montagna del tema mi pare che tu dico prima avete a questo punto preso un pezzo di giornale o Sassomida in tutto caso un articolo o una prosa giornalistica ficcata direttamente in un testo e qui ci nasce un effetto nuovo c'è di noi per esempio pensate a fare il casting della Cirozariseo e c'è una parodia mi pare di un stile di questi cronaghi corsi c'è Giovanni da Grossa che ha fatto in Trento una maniera di parlare e poi c'è un altro testo pensavo a Francesco Viangari che ho letto poco fa di terror e fantasia faccio un testo che si chiama Neuroscienza e arma biologica scienza, visione o realità e si tratta di una nuova ma chi è questa nuova pida aveva forma finalmente in un risultato scientifico ho fatto dunque qui di noi di mischiare così un incudere una bifera di pareti altri generi è forse un'altra tendenza che si può rimarcare e che forse è un po' nuova il rapporto dunque all'ingrosso l'anisittante c'è dopo terzo punto sono stato conto abbastanza abbastanza io non ho mai capito troppo non ho mai partito in tutti l'intertestualità la parola un po' conisciuta quindi un po' preziosa ma in fine l'indipendenza letteraria tra pareti testi ho fatto che certi testi nascessi da altri testi è un affare ben inteso conisciuta da lungo andando ma in fine la sovraiguenza è importante nella letteratura allora il più esempio che trovo è quello di Paolo Filippi in cui un personale che giustamente gioca un livello o due ma a certe volte tre livelli di scrittura vengono a dire che è un po' un marco corso ma scritto in più passando la lingua vengono a dire che la traduzione è commentata e dunque avevamo così un testo che gioca che si polledia d'una maniera semplice di poesia che si viene normale soli non si che si che mica bisogna le montarnese critiche per capiscerle un secondo livello che si polledia a bifera un poco da Markayam e un terzo livello che forse qui giustamente gioca è una distorsione per rapporto a ciò che non sappiamo di questo autore infine dunque una lettura più sapiente che qui di noi quanto a me non si via tanto c'è un altro esempio che ci tengo perché se ne parla poco ma frini c'era qualcosa un testo che mi è sempre piaciuto ma che ferma un poco se ne parla tanto è Francesca Giammare un piccolo testo che si chiamava un tocco ridiscorzato tra babbo e figliola Lucia a me sbaglio Lucia e Lucia e dunque sul testo qui con della Iuretta io soffermo un testo che a Gumencia più o meno come un vocero o una balatera venne di di e una donna più da parola e quando è più da parola il minimo che si può dire è che siamo completamente all'arretrose del vocero tradizionale è una riscrittura così che giustamente è intertestuale da di noi ma allora con una forza tremenda non è un tempo di legge perché lì ho preso il strato cioè quantunque si comincia un po' a morte e si finisce più o meno in noi adenaggio un contrasto straordinario ci vorrebbe forza sarebbe di di vedere Lucia Giammar e infine sarebbe è vero perché francamente ne ha fatto tre testi sono tre testi di qualità in quanto a me allora dopo ci sono dei nuovi testi che si può discorre un po' come per esempio veniretevi dal mattino che era una parlata un momento su testo di Gualnesy che comincia così mamma si è spenta stamane che faccio il conto come pare riferente un po' che all'estrangeri ma ci puoi interrogare che è un rapporto c'è davvero sarà un po' mica uno sbaglio dunque come funziona qui l'intertestualità c'è da dove andassi ma intanto ha giusto un senso di più all'opera e c'è anche Diorgio Rizzervi in cui l'ultima pagina in cui tutti si riferentano i libretti e l'opera che giustamente permettono di legare un testo un po' in cui riferentano un altro testo allora voglio capire al quarto punto c'è la metafizione la traduzione di metafizione una scrittura una altra scrittura ci sono pareti esempi voglio capire uno che mi pare rappresentativo quando tu scrivi la pagina bianca e dici ciò che è definitivamente la scrittura è un po' qualcosa che si può vedere tanto ma al fine c'è un sottogenero un po' di questa metafizione scusatemi qui di nuovo queste parole metafizione istoriografica esattamente traduzione metafizioni istoriografiche allora che dici la critica ha inventato un po' questo è linda Yuchun e dice che finalmente ciò ha fizionalizzato avvenimenti storici o persone veri e definisce questo genere parodivisione così i voli con la città un po' un mischio e mi scuso di città ma di Roma apposto che sono stato citato tante volte e ho provato a fare affare con una piccola novella che si chiamava un bel gioco pidendo un personaggio che ha assistito e mettendolo finalmente fendolo in un diciottesimo secolo in due di regola era tutto vero ma ben inteso è una vizione quantunque giocavo un po' questo affare non so mica se è stato un riuscito ma provo allora quinto punto e finisco c'è una distruzione dunque di noi narrativa identitaria l'affare un po' di Rimbaud in cui «jeu età notre» ci sono qui di noi pareti esempi c'è Diago Montierre con la barca la Madonna giustamente due narratrici tra pareti altri in più un dice la verità un è credito dunque dopo il colpo c'è questo problema identitario che si mette stavolta in la voce del narratore nel Settiem Cielo non ne parliamo perché ci sono pareti dei narratori c'è Murachini di noi da Dio D'Emp un camposanto dove finalmente caschiamo in una trappola della narrazione perché le narratrici quindi un'animica dei tuoi libri ma a fine aveva la sua potenza importantissima finalmente siamo obbligati a rivedere un libro avviene ma capisce ciò che dire è un po' di stesso e infine c'è a U daranno di meglio che viaggia in quanto a me in quella stessa maniera posto che un narratore è una Iagara è bene inteso ma siamo obbligati a rivedere allora per concludere spero non sia stato troppo lungo prima mi pare che ho manco ci pure mi orgoglie in qualche maniera d'avere una letteratura penso di averlo mostrato che partecipi a tutti i polemiche o i problemi o di l'ambio mondiale parlava al momento di letteratura regionale o chissà più o meno chiusa non è più caso penso che questo è un costato che si può fare senza problemi e un secondo punto è di sapere a parte di questo affare di finire ciò che forza ci fare in sedia oggi da ciò che si faceva nell'anni settanta è difficile per chi è ben inteso già come per esempio che sarebbe un settantesco un po' continuare a fare parte della stessa mossa dunque c'è ben inteso un'aria ma infine c'è qualcosa c'è qualcosa contunque abbastanza nuovo è che finalmente c'era una modernità nell'anni settanta volsuta e c'è oggi una potremmo chiamare a posto modernità eccetera ma infine non è mica la stessa affare voglio dire che la modernità sarebbe un po' una maniera di una specie di epistemologia una teoria della conoscenza che si pone in un mondo invece che a post modernità sarebbe piuttosto una razza d'ontologia una teoria dell'esce ci interroghiamo in un statuto dell'opera quando è in traccia dei vasi e questo non esisteva mica in un anno e dunque c'è un po' questa differenza qui forza allora dal nome di un colpo mi sono interrogato perché abbiamo parlato qui di letteratura di disincanto ma disincanto c'è dunque un aspetto un poco pessimista nell'affare pare che non ci fosse mica né gioia né esperienza ci credo mica tanto st'affare interrogarsi in modo ironico è una maniera di giocare ed essere finalmente felice in qualche maniera mi pare non ero bugio dunque a disincanto perché mica non mi mi convene mica tutto affatto invece ho fatto di staccarsi o di una specie di letteratura diciamo la staccanza mi piace di più ho inteso ciò c'è pure a discorre ma infine sarebbe finalmente di passare dai settanteschi a diciamo così i staccanteschi perché mica vi leggo rivletta l'antestervizione sono state fatte un po' in furia ma grazie grazie a tutti grazie a tutti perché ci avete ci avete dato una materia importante per rivlete per continuare la discussione dopo voglio di imprimare qual è il suo scopo del nostro scontro oggi ne manca pena divamando ma piuttosto di vaffola ma piuttosto il rivene non c'è fenomeni che non rompiamo che noi siamo a torri spesso ma che non abbiamo mica l'agio di analizzare e di riflettere insieme ciò che voi ci avete dato penso che lì è una bruenda importante per una riflessione che si verrà di prima sotto un modo appena io stuzzichimme a Guido Viroloni che ci vorrà pensare forse a fare un numero 30 un numero 20 di messaggier domenico che che ci sono che ci sono diciamo che diciamo che e una lingua che sono quella della italiana per la termine riguardo lingua fondamentale è che della denomignazione letteratura corse Est-ce que vous intégrez les ouvrages d'une autre langue que la langue corse ? Il y a sûrement des avis divers. Je crois que vu la situation de la langue, le fait que nous sommes dans une population bilingue massivement de nos jours, il est évident qu'on ne peut pas dire n'est littérature corse que ce qui est en langue corse. Il faut voir que c'est une situation quand même de langue dominée, parce que personne ne penserait à dire qu'on va éclure dans la littérature française quelqu'un qui écrit en anglais, par exemple, même s'il est français d'origine. Mais il est évident qu'on a eu parallèlement, depuis très longtemps, des écrivains corses de langue française, de langue d'ailleurs italienne, on le disait dans le passé, de langue anglaise pour quelques-uns, avec Joseph Thiar qui a écrit des choses intéressantes en anglais, mais surtout de langue française, le cas le plus récent qu'on ait vu étant le prix Goncourt de Ferrar et puis l'apparition récente de Biancarille aussi qui est quelque chose de très bien, les livres de Prédali sur la Corse contemporaine aussi qui sont de très bons romans, on pourrait en citer des quantités. La question c'est où mettons la limite ? C'est-à-dire, moi je serais assez d'avis de considérer comme de la littérature corse en langue française ce qui est écrit par des Corses sur des sujets en rapport avec la Corse quand même. Parce qu'autrement, est-ce qu'il ne faut pas y inclure Mérimé parce que le sujet est Corse ? Est-ce qu'il faut y inclure quelqu'un qui écrirait un Corse d'origine, qui écrirait sans jamais aucune allusion à la Corse, etc. ? Je crois qu'il faut aussi laisser les gens faire leur choix. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un débat que j'ai déjà eu avec Jean-Guita Lamogne sur Valéry. Moi, personnellement, je n'inclus pas Valéry dans la littérature corse. Puisque son rapport avec la Corse est infime, on parle après d'imaginaire. L'imaginaire peut être beaucoup plus large que Corse. Il y a un imaginaire méditerranéen qui inclut la Corse, qui inclut l'Italie. Sa mère était italienne, qui inclut le Midi de la France où il était né. et élevée. Donc, ça, c'est un débat qu'on peut avoir sur où on met la limite. Mais il y a un certain nombre d'œuvres dont il est évident qu'elles sont en français et que c'est de la littérature corse. Il n'y a pas de doute. Je ne partage pas cet avis. Parce que je pense que, bien sûr, on a plusieurs langues à notre actif. Et tant mieux. Plus on est bilingue ou trilingue, tant mieux. Mais il pense qu'il faut quand même réserver l'expression littérature à Corse. à l'ensemble écrit en langue corse. Parce que, justement, sinon, on tombe quand même dans des confusions bien grandes. On ne sait pas où s'arrêter. Pourquoi un sujet corse serait-il plus corse ? Ce qui est précisément bien, dans mon sens, c'est qu'en écrivant en Corse, on puisse parler d'ailleurs. Tandis que, imaginons, alors, un roman écrit par un Corse qui parle, je ne sais pas, d'Amérique latine. Donc, il ne fait plus partie de la littérature corse. Alors que la langue étant vraiment le... Voilà. Mais, donc, je pense que c'est... Ah, s'il peut faire connaître la Corse sous ton hospice. Oui, mais... Un roman en langue française, vous êtes monsieur des antiques. D'origine Corse, Corse. D'accord. Non, j'entends les auteurs corse. Comment on peut définir un auteur corse ? On touche là à la notion d'identité. Ça semble un peu compliqué et assez vaste comme question. Par contre, j'ai une... Si je peux rebondir et poser une question supplémentaire sur celle qui vient d'être posée. Je me demande... Parce que c'est quand même un débat qui est récurrent, celui de l'objet de la littérature corse. Est-ce qu'on prend en compte la production corseophone seulement ou la production dans d'autres langues ? Est-ce que c'est une littérature qui est plurilingue ? Est-ce que c'est communément admis ou pas ? La question que je me pose, c'est pourquoi ce débat est encore présent aujourd'hui ? Il doit sans doute y avoir une raison. Parce que c'est une vraie problématique. Je pense que le débat existe. C'est-à-dire, est-ce que... Le problème, c'est la problématique de l'objet. C'est-à-dire, qu'est-ce que la littérature corse à un moment donné ? Et il est très clair que si on passe par la langue, la circonscription de l'objet est beaucoup plus facile. Et est évidente du moins. Facile, je ne sais pas, mais est évidente du moins. Et en tout état de cause, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Du point de vue de l'existence, etc. Donc, après, s'il y a un objet qui s'appelle littérature corse et qui est d'ordre plurilingue, ce que l'on peut parfaitement partager et ce qui bénéficie aussi d'un argumentaire tout à fait valide, et on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est beaucoup plus difficile à circonscrire là, à ce moment-là. Il faut peut-être tout simplement définir le corpus, se mettre d'accord et l'enrichir au fur et à mesure et puis dédier les travaux en matière de littérature. Mais ça ne doit pas occulter, je crois, le fait qu'on a un objet à travailler et qui est évident, qui est celui de la littérature corse, d'expression corse, de langue corse. Et là, en revanche, il y a un travail. Ça n'est pas si évident que ça, parce qu'encore une fois, jusqu'où aller en termes de langue, etc., etc., il y a aussi un débat sur cette identification-là. Après, il est certain que le problème, c'est de savoir où mettre le curseur. Et moi, je suis assez d'accord avec Jean-Marie Harry, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait de mettre Paul Valéry, après on met Mopassant, après on met Mérimé, etc., etc. Et bon, en revanche, il y a des gens qui, aujourd'hui, ne souffrent pas cette acception ou cette acceptation, plutôt. C'est par exemple Ferrar et à fortiori Biancaré, ou je ne sais pas moi, Daniel Mahoud, qui devrait nous rejoindre cet après-midi. Moi, je considère que ce sont des poètes, des romanciers qui font partie aujourd'hui de l'expression corse. C'est difficile. Oui, moi, ce que je voudrais préciser, c'est que, de toute façon, ce débat ne se pose que parce que nous sommes dans une situation de langue minorisée. Parce qu'il est évident que, dans les grandes littératures, qu'est-ce que c'est que la littérature italienne ? Personne ne dirait qu'il y a des écrivains italiens de langue russe. Bon, c'est évident qu'un écrivain italien, c'est un écrivain qui écrit en italien. Et, en sens inverse, je ne crois pas que quiconque classe Zola dans la littérature italienne ou Konrad dans la littérature polonaise. On les classe dans les littératures correspondant aux langues où ils écrivent. Bon, nous, on est bien obligé de regarder en face notre situation. C'est-à-dire qu'il y a aussi, pour l'écrivain, bon, Biancaril, c'est un thème qui reprend assez fréquemment, il y a pour l'écrivain une envie d'être lu aussi, à un moment donné, d'être lu largement. Donc, le problème se pose. Mais c'est vrai qu'après, on passe d'une définition objective. Littérature corse, c'est écrit en Corse. Bon, voilà, c'est Corse. C'est évident. Objective et indiscutable. Après, on passe à du subjectif, quand même. Sur où mettre le curseur ? Et il faut aussi se méfier de notre habitude à tous, je dirais, de vouloir trouver des parents ou des amis, même quand on n'en a pas ou qu'on n'en a plus. Dire, le pape est d'origine corse ou colon est ragourde, compagnie. Bon, on veut trouver des Corses partout. Je crois qu'il faut au moins laisser les gens s'autodéfinir. Je veux dire, un écrivain qui, à la limite, se réclame de la Corse, estime que la Corse vaut un rôle dans son travail, etc. Pourquoi pas ? Mais un écrivain qui ne dit rien, qui a un grand père Corse, qui écrit sur ce qu'on veut, je ne vois pas pourquoi on l'intégrerait de force, en plus, dans cette littérature. Mais c'est vrai que le problème se pose pour des raisons sociologiques et socioculturelles. Il ne devrait pas se poser si nous étions un pays avec une population nombreuse lisant sa langue, etc.